carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di luca capitolo 24 versetti 13 a 35 i discepoli di emaus conosciamo più o meno la storia questi discepoli tornarono nella loro città di emaus perché gesù era morto l'uomo l'uomo che seguivano non c'è più sono stati scoraggiati e demoralizzati conviene dunque tornare per riprendere tornare nella della nostra nella loro città per riprendere le loro attività quotidiane così fecero anche altri discepoli per esempio dietro anche tornava a pescare nonostante il camino di gesù nonostante che gli stavano in mezzo a loro mentre che parlavano nessuno aveva riconosciuto lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane effettivamente e in questo intorno a questo spezzamento del pane che si crea si forma il nuovo popolo di dio la nuova comunità perché è il dono di cristo all'umanità nuova l'umanità redenta dal 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 risorto e la prima lettura di oggi ti parla proprio di questa nuova comunità questa chiesa un nuovo popolo di dio che si riunisce intorno alla preghiera alla preghiera alla all'ascolto della parola di dio e poi allo spezzamento del pane perché l'eucaristia forma la chiesa dunque questa eucaristia che cos'è la comunione e la chiesa vive nella comunione dunque noi ogni volta che partecipiamo all'eucaristia non soltanto andiamo a mangiare il corpo di cristo ma piuttosto a pensare che noi stiamo formando un solo corpo con cristo dunque l'unità la comunione ecco l'importanza della messa siamo in comunione tra di noi e anche con i santi perché è gesù che ci riunisce nello spezzamento di questo pane questa comunione che viviamo in chiesa dobbiamo riversarla nelle nostre famiglie vivere nella comunità non serve andare a messa partecipare all'eucaristia prendere corpo di cristo e a casa siamo incapaci di creare l'unità di creare comunione siamo diversi ma siamo invitati a creare comunità della diversità creiamo comunione siamo invitati a essere testimoni della comunione ecclesiale siamo noi i protagonisti di questa comunione allora carissimi invochiamo lo scritto santo di di aiutarci a essere un ponte che può creare questa unità questa comunione vi auguro una buona e santa giornata a tutti